RICERCATISSIMA E FOTOGRAFATISSIMA Anna Tatangelo arriva alla sfilata di Richmond a Milano ma non può certo immaginare che all'ingresso sarà rimbalzata perché non in lista ospiti ed eccola mentre sta lì imbarazzata davanti all'addetta che scorre l'elenco degli invitati e agli obiettivi che impietosi continuano a scattare non sa che fare, esclama anche non fa niente, proprio rivolta ai paparazzi poi arriva in suo soccorso un uomo della security che la lascia entrare, impietosito dimenticata? Affatto! è solo uno scherzo da avere iene Grazie a tutti!